Le prossime ore saranno decisive per stabilire se il tentato omicidio compiuto da Federico Pecorali ai danni di Elfri Rosado Guzman rimarrà solo un bruttissimo ricordo nella vita del 23enne di origini dominicane o se avrà conseguenze irreversibili sulla salute del giovane. Il dipendente di casa Rusti, che ieri ha ripreso coscienza dopo essere stato sottoposto a vari interventi in seguito all'aggressione subita, ai familiari ha detto di ricordare tutto di quel fatidico primo pomeriggio di un'assolata Domenica delle Palme che ha sconvolto la città di Pescara con un delitto imprevedibile e non facilmente decifrabile, come definito dallo stesso questore Luigi Liguori. E anche il racconto di Elfri ai familiari ha confermato l'assurdità dell'accaduto. L'insoddisfazione di Pecorale, scontento dell'attesa per quegli arrosticini poco salati e la sua rabbia ingiustificabile, esplosa con quei cinque colpi di pistola sul corpo del giovane cuoco. Ieri pomeriggio il quinto bossolo è stato recuperato proprio dagli agenti della polizia scientifica all'interno del locale Casa Rusti. Attualmente rinchiuso nel carcere di Ancona dopo che la sua fuga in taxi verso la Svizzera è stata bloccata nell'area di servizio di Metauro sulla 14 dagli agenti della polizia stradale di Senigallia. A seguito delle indagini avviate dalla squadra mobile di Pescara al comando di Gianluca di Frischia, Pecorale, difeso dall'avvocato e amico Florenzo Coletti, dovrà rispondere di tentato omicidio e di porto dell'arma con cui ha sparato al 23enne dominicano, una pistola acquistata per difendersi da chi lo derideva, come dichiarato. Per il 23enne di origini montesilvanesi che al momento della cattura è stato trovato in possesso anche di due caricatori di un cellulare spento e di 1.550 euro in contanti, l'avvocato Coletti richiederà la perizia psichiatrica, avvalendosi di ulteriori accertamenti medici a partire dall'invalidità al 90% riconosciuta al giovane a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2010 sulla variante di Montesilvano. Intanto, l'episodio di domenica scorsa ha riacceso i fari sull'emergenza sicurezza a Pescara e in particolare sul quadrilatero del centro cittadino, dove residenti e commercianti lamentano degrado in sicurezza soprattutto nelle ore serali e notturne e chiedono più controlli e presidi fissi da parte delle forze dell'ordine, come ribadito da Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e dalla dottoressa Alessandra Sodano, residente del centro cittadino. Noi stiamo parlando di cose che denunciamo da mesi, mesi e mesi. Quadrilatero, Corso Vittorio Emanuele, Via Leopoldo Muzzi, Riviera, Piazza Italia, con un focus particolare in zone pericolosissime che sono Piazza Santa Caterina, Parco Florida, Giardinetti di Piazza Primo Maggio e Portici di Piazza Salotto. Allora abbiamo raccolto cittadini, commercianti che lanciano il loro grido d'allarme. Qui costantemente si fanno atti di violenza, aggressioni, persone che entrano all'interno dei negozi e vomitano all'interno dei negozi ubriachi e drogati, urinano sulle vetrine, spaccio di droga tutte le ore. Ci sono bande di ragazzi delinquenti pregiudicati delle periferie che nei giorni, soprattutto festivi, si spostano a Piazza Salotto dove ostentano i loro muscoli e cercano di fare delle gare di box. Solo qualche giorno fa abbiamo un video, hanno picchiato un ragazzo, i cittadini hanno paura, i commercianti hanno la porta diversi di loro, la porta chiusa a chiave. La città di Pescara sta subendo un escalation pazzesca, pericolosissima, emergenza sicurezza in atto, si faccia subito quello che stiamo ripetendo noi da tempo. Unità fissa H24 in Piazza Salotto come nelle altre piccole metropoli italiane, un vigile fisso Piazza Santa Caterina, Parco Florida come c'è stato in precedenza. Il problema era quasi risolto, non si capisce perché hanno tolto queste misure. qui ci può scappare tranquillamente il morto anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nessuno lo sa. Si respira qui nel centro un senso di insicurezza, soprattutto la notte. L'attenzione è stata sempre posta alle periferie, però adesso siamo noi residenti del centro a richiedere maggiore sicurezza perché non è più possibile vivere così.